Presentato il piano urbanistico attuativo del subambito 1 Santa Cecilia di iniziativa pubblica. Priorità dell'amministrazione è il completamento urbanistico delle aree individuate dal piano regolatore generale vigente per l'insediamento della cosiddetta città pubblica e degli spazi di cui Santa Cecilia è carente. Una piazza, una chiesa e luoghi per lo svolgimento delle funzioni pubbliche e delle attività sociali. Grazie agli uffici del settore urbanistico e pianificazione è stato possibile ascoltare i residenti di Santa Cecilia in un momento di pianificazione partecipata su scelte tecniche e disegno del territorio.